Sì, allora, la veste la tratta a tutti. Auguri! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Bruno! Tanti auguri a te! Vai Bruno! Ok! Allora, la distribuiamo. Questo è il nostro ricordo per noi, con il nostro nome e cognome. Mi sono piaciuta le due lecce che avevo scritto. Bellissime, stupende, mi ha toccato il cuore. È stato efficacissimo. Poi le raccolto una cosa, poi più in là ve le faccio sapere. Mi dovete lasciare tutti il telefono, mi dovete lasciare. Grazie, grazie a tutti. Questa la tagliamo tutti quanti. Mi dispiace la Caterina, però è virtuale. Senti, io farei una cosa, scusami. Ma l'hai fatta la foto, Gianfranco? Anche il video. Ascoltami. Ma lì, voglio fare una cosa. Adesso programmi i piattini e tu porterai un pezzo di torta a tutti. Ma come ho fatto oggi con le paste? Va bene? Certamente, vale. Perfetto. Ragazzi, siete meravigliosi. No, uno non ci crederebbe mai. Io questa la racconto mio figlio. La raccontano i miei nipoti. Guarda, io non ho mai festeggiato a comprare, Riccardo. Francesco. No, non sono un uomo a comprare. Però è stata una cosa davvero bella. Fammi dire il mondo che ti mando. E il meraviglioso. Va bene. Che guarda. Grazie. Guarda, noi molto molto sai che se c'è dei compri anni vi facciamo sempre le situazioni un po' particolari, no? Io lo so, non viene con la vita che fai. Ma lì, ma lì, ma lì, vai. Però è sempre qualcosa di nuovo. È sempre una cosa che... Arriverà anche a voi la torta. Il solito è accomodato. Eh sì, è accomodato. Non lo diciamo a nessuno però, eh. Non lo diciamo a nessuno. Ora arriverà la torta. Mi auguri. Guarda.